E' stato Tommaso Mazzanti, titolare insieme alla famiglia dell'antico vinaio di Via De Neri, ad inaugurare Firenze Cambia, il ciclo di appuntamenti con le eccellenze dell'imprenditoria giovanile fiorentina, ideato dalla ConfCommercio. Un modo per conoscere come un'impresa enogastronomica, semplice e tradizionale come quella di un vinaino, è riuscita a trasformarsi in un fenomeno social e venire inclusa nella lista delle esperienze che i turisti devono assolutamente vivere a Firenze, al pari di una visita alla Galleria dell'Accademia per vedere il Davide di Michelangelo o una passeggiata su Ponte Vecchio. Sono straonorato di essere qui in una cornice bellissima che è il Palazzo Cucci. Spero, ti dico la verità, di poter portare la mia esperienza, di quello che mi hanno insegnato i miei genitori, fino a oggi, a chi ci viene a ascoltare stasera, perché per me poter raccontare della mia famiglia, di come è nato l'anticovinaio, di come a oggi abbiamo aperto anche a New York. Per me è un onore davvero immenso, cioè aver portato comunque i gilli di Firenze nelle porte di New York, un tipo di soddisfazione ciò addosso. Noi stiamo giocando i migliori esempi, i migliori campioni del nostro territorio, Under 40, che possono in qualche modo raccontare la loro storia, la loro esperienza, il loro modo di riposizionarsi sul mercato con quel legame forte, unico con il territorio, con la sua tradizione, ma puntando sull'innovazione.